Ciao ragazzi, siamo arrivati a quest'ultimo vlog della vacanza a Pastrengo, Veruna. Ok, in questo ultimo vlog parlerò delle cose che ho fatto in questi giorni a partire da Gardaland. Ok, su Gardaland potrei farci un discorso di 50 ore perché è stato schifosissimo. Non per il parco, per carità il parco era stupendo, ma mi credete che mi sono fatto un solo giro? Un solo giro, e per fare quel giro vi ho messo due orette, non lo so, due ore di fila e due ore vere. Cioè, non potete proprio capire, a ogni montagna russa c'erano due ore di fila, che ne so, potrebbe essere dei film in 4D così, per dire no? Due ore di fila per dieci minuti, ma chi me lo fa fa? Cioè, insomma, sono riuscita a farmi solo un giro. Poi c'è la fila anche per prendere del cibo. Non potete capire davvero una cosa assurda. Adesso finisco qua il discorso di Gardaland e andiamo al Sea Life. Il Sea Life è quel parco acquatico, possiamo dire, cioè no acquatico, parco di pesci, di pesci, che sta proprio accanto a Gardaland. Fa sempre parte di Gardaland. E lì ci sono, beh è stato molto bello, sì, ci sono diversi tipi di pesci, i squali, i granchi, qualcosa di così. Vabbè è molto carino anche quello, devo dire. Poi, 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 poi all'Azise, l'Azise, non le, no niente, l'Azise, che praticamente a mangiare fuori, a pranzo, sul lago di Garda. E nient'altro. Adesso sono a casa mia, sono a casa mia e e niente. Non so che dire. Va bene, però comunque con questi saluti, saluti, con questi, con queste parole, chiuderò gli episodi di questa, di questi, chiuderò il vlog di questa vacanza. Ciao a tutti e al prossimo video!